Allora chi mi conosce dal vecchio canale saprà benissimo che io che ne so quando sto per annunciare qualcosa e sto per recensire appunto questo annuncio e quando sto anche per commentare questo annuncio qua che sia un progetto musicale, in questo caso qua ovviamente, un film, una nuova serie televisiva o magari un nuovo videogioco di una determinata serie videoludica. E ragazzi dico sempre, questo qua è soltanto l'annuncio, non createvi da soli delle aspettative che magari poi alla fine non verranno rispettate, aspettate che esca e non fatevi viaggi mentali su come potrebbe essere questo progetto qua. Però ragazzi è incredibile che l'unico che mi sta facendo ricredire in questo momento è proprio Sfera, con l'ultimo single che lui ha lanciato qualche giorno fa, che tra l'altro è uscito anche il videoclip che non l'ho ancora visto, però ho ascoltato il single in live e non posso farvi vedere la clip dato che poi alla fine è stata mutata. Però ragazzi posso dirvi che sono rimasto tipo, wow, è cento volte meglio rispetto a tutti gli altri single di Rockstar, questo è chiaro ovviamente. Ma sapete cosa mi sta creando ancora più aspettative, soprattutto perché io Sfera e Basso ritengo l'artista italiano, perlomeno nel rap italiano, con il marketing migliore. Perché se voi andate praticamente sul suo canale YouTube, ha praticamente sostituito tutte quante le copertine dei suoi video musicali o anche audio senza nessun video musicale, e ha usato praticamente la copertina del disco in questione, ovvero famoso. Ed è anche un'ottima idea per pubblicizzare ancora di più il disco. In realtà è anche una bella trovata, è una bella trovata ed è per questo che io lo sto rispettando a livello di marketing, dato che a me piace quando persone cercano di farsi vedere in questo modo. Non dico ovviamente che sia una commercialata, perché in realtà l'avrei fatto anch'io, onestamente parlando. La cosa che mi sta facendo impazzire dietro questo disco non è soltanto la copertina piena di citazioni, ma non soltanto la copertina del disco, è anche la copertina del singolo, che assomiglia molto, se voi avete notato, a Status di Marrakesh. Non so se è una citazione voluta o non era voluta, ma se è voluta, tanto di cappello per lui. Ma ritrovando al disco, oltre alla copertina sono i fit e la tracklist è lunga un chilometro. E noi abbiamo anche produzioni affiancate a Charlie Charles con Shablo, a Steve Aoki con Diplo. Ovviamente con tracce diverse, non nella stessa traccia. Ragazzi, Steve Aoki e Diplo in un album di Sfere Basta, due leggende dell'IDM. Porco Dio. Non so che cosa ne potrebbe uscire, dato che Steve Aoki non fa trap, fa IDM. Vabbè, la trap è anche un sottogenere non soltanto del rap, ma anche dell'IDM, per chi non lo sapesse, è praticamente l'acronimo di Electronic Dance Music. La trap è anche un sottogenere di questo genere, ovvero l'IDM. Quindi ci sta, non so come il sound di Sti Aoki possa affiancarsi a quello di Charlie Charles o di uno Shablo, però del resto è anche questo il bello di un artista, trovare sempre vie diverse, nuove vie, ovviamente, per comporre una canzone. La tracklist che giustamente vi metterò qua davanti, e gli unici fitti italiani sono soltanto con Marrakesh e Wepekenio, giustamente. Che tra l'altro, se voi vi ricordate prima, ho detto che probabilmente, spero voleva citare Marrakesh con la copertina dell'ultimo singolo che è uscito. Allora, dato che Marrakesh è stato partecipe alla produzione di questo disco, volmente, che ne so, Marrakesh gli appunto ha dato un'idea sfera nel realizzare la copertina. È una mia opinione molto interessante. Tra l'altro, questo film che appunto lancia il disco dal titolo famoso, ripeto, soltanto per chi ha Amazon Prime, quindi per favore non ditemi, linkami il film. Non posso neanche io guardarlo, ragazzi, dato che io non ho Amazon Prime, capitemi. Vorrei guardarlo, però mi piacerebbe guardarlo dopo aver ascoltato il disco, giustamente. Perché dato che lì ci sono i making of di praticamente tutte quante le tracce, credo che non abbia senso prima guardarsi il making of e dopo la traccia originale. Ma la cosa brutta è che ci sono i freebooter che hanno Amazon Prime, che hanno scaricato, barra, come è stato il film, e che mettono clip, mettono spoiler per chi non ha Amazon Prime. In realtà, ragazzi, secondo me è una cosa abbastanza brutta, perché dato che c'è tanta hype dietro a questo disco, secondo me non è il caso di farlo spoilerare agli altri. Ovviamente questi video non li ho visti, però ho visto il titolo, ragazzi, quindi per favore non dite nulla, ok? Cancellateli, fate prima, guardate. Non dico cosa dovete fare, ma per favore è brutto. Si ritorna un pochettino a quando è uscito Super Heroe di Amy Schilla, che tutti quanti avevano premium, ovviamente legato a Spotify, tutti quanti erano abbonati, così potevano avere il disco uno, due, tre giorni prima, se non sbaglio. E tutti quanti facevano i freebooter registrando l'audio del telefono o del desktop, ovviamente per chi ha Spotify sul computer. E poi ricavano l'audio su YouTube, ancora prima che il disco venne rilasciato ufficialmente nella vera data d'uscita. Ecco ragazzi, fortunatamente, fortunatamente, Amy si ha segnato tutte queste cose, e poi alla fine queste cose qua non si trovano più. E per fortuna, anche se effettivamente quando ho visto queste cose qua la prima volta mi ero spoilerato tre o quattro tracce, tra l'altro tre o quattro tracce che io ritenevo anche le migliori del disco, mannaggia. Allora, da questo momento in poi io registrerò così, perché durante il montaggio mi sono reso conto che io nel momento che stavo parlando la videocamera era spenta, e quindi non ha registrato il discorso finale, tra l'altro il discorso più bello, tra virgolette più bello che io stavo facendo. Vabbè, vi faccio vedere il montaggio finale che è appunto questo qua. E niente ragazzi, quello che in realtà volevo dirvi è che, se voi vi ricordate, in una vecchia intervista fatta ad Antonio Dichai e di Stefano, a Sfera, Antonio Dichai e di Stefano sarebbe il padre fondatore di SM Magazine, ha praticamente fatto questa scommessa con Sfera, ha detto che nel prossimo disco avrebbe dovuto fare tutte quante hit internazionali. Ora, e questa appunto è la cosa che mi preoccupa, non so se appunto questi hit sono fatti soltanto per la scommessa, o soltanto per cose ricordo vicinanza, nuove amicizie, eccetera. Ok, potrebbe sembrare molto, molto, molto strano, però ragazzi, si può fare di tutto con la musica effettivamente. Vabbè ragazzi, comunque lasciate like, iscrivetevi e commentate, passate ovviamente da SonicFan in Italia, passate da tutti i miei social, passate da By AngelTube, passate praticamente da tutti i collaboratori che il linkerò in descrizione. E noi ragazzi, ci vediamo alla prossima e soprattutto, fatemi sapere che cosa vi aspettate da questo disco. Ciao!